Ciao a tutti ragazzi, qui è Manu, qui è Vizio e Marco e ben ritrovati nel canale ragazzi Qua stiamo andando alla grandissima, alla grandissima ragazzi Oggi ovviamente tocca a Manu, stiamo facendo la gara, per ora credo di essere ancora leggermente in vantaggio Io non lo so, devi essere in vantaggio ma le posso dire cosa? Vabbè non possiamo dire niente perché guardate qui sopra ragazzi vi lasciamo i link di entrambi gli spacchettatori Ovviamente uno fra qualche secondo vi metto anche l'altro Mi raccomando date a recuperare abbiamo aperto prima Elite io, poi Elite Marco oggi Tocca a Manu Ragazzotti prima di lanciare questo video mi chiamo lasciare un grosso bacione all'insù Mi raccomando iscrivetevi al canale Inoltre vi ricordo che qui sotto in descrizione vi lasciamo il link per poter acquistare questo meraviglioso Elite 3 del Boss Guardate quanto è bello Assolutamente e ovviamente vi lasciamo anche una lista dei consigli di acquisti Perché siamo ormai in arrivo con Pokemon Spade e Scudo Non può assolutamente mancare Spostiamoci sotto Vai vai Manu Eccoci ragazzi finalmente tocca a me come abbiamo fatto con Marco andiamo veloci Vai vai Sì vabbè Sì sì Elite ormai l'abbiamo viste Trova Charizard Ne trovo tre Bravo Ce ne trovo tre in amato domani sul Tiburgo Ragazzi morti dopo un infarto collettivo Dice che è colpa di Pokemon Fra ciò è il più grande del mondo più che Guardate quanto è bello Guardate l'antro dei desideri Quanto è bello Allora Codicino Ero lì Qua Vabbè i spartidrati Qua ci ne volete La carta una delle carte più belle che abbiamo mai fatto Adesso è più bella Assolutamente Probabilmente una degli altri anche più belle Ero lì C'è inizia col fuoco Ero lì Ero lì Ero lì Ero lì Non ci frega niente Ma a noi ci interessa questa La ciccia buona Alla ragazzi Ecco Mettiti la palla Uno zappo il moto dell'altro conò Zappo il moto dell'altro conò New to shiny New to shiny Da parte Charizard da parte Altri uccellacci Ancora Sono un Charizard uccellacci Certo Pronti ragazzi Ok allora Ma cosa si avvicina E poi gubbo No 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 Ti mette giù Allora Dimmi Certo che puoi dire Il dolore che ha visto pacchetto Già lo so Che hai le mani patate Ma c'è 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 Ok Cleferry Caterpie Ekans Energia Cleferry Cerminian Che torbella Cleferry Farfetch Bella Bella Buio Bella Buio Bellissima Energia Buio E un Arbok Che bella Buio Allora A me sbaglio Abbiamo messo Subbio Bene Bene Ma non l'ho sentito Quello Vabbè E' un po' liscettino Beh E' un po' liscettino Perché guardano C'è una ferita Quello Fa la vede in camera La ferita C'è una ferita Grandissima La facchetta Pocamon Probabilmente Nel prossimo Non c'è Sarà Che morirò La facchetta Che sono di puricali Da spacchettamento Ho tagliato Con la carta Vai Ancora Godicino 1 2 3 4 Non vuoi Dico Vabbè Ma che già dici No E' certo Ti avrei all'ultimo Sennò poi chiudono Una volta che la docia Arizer Tu che vuoi fare una nota musica E non do che caccia la liberia Bravo 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 Anche perché ci abbiamo passato un pomeriggio Allora E' una cosa buona Giusto Se parte con tag trio Qua si morimo La tavola Ma non è la cosa Sua Ho fatto una rotazione Ragazzi Ho un palo Se ci ho messo Parazzo Catherpee Charmander Refury Io voglio tutto Nella spessore Cyduck Energia Farfetch Farfetch Jinx Piano 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 Charmillion Eccola Catherpee Guarda che tag è tag Non è tag E' quello schifo Dei pincer Questo è brutto Devo dire Questo è brutto Però vabbè Però dai Meglio di Ma sai come si dice Meglio di una zampata Però sono obiettivi Non è brutto A me sinceramente Quelli Estremo 3D C'è proprio Estremo finto Non mi piacciono tanto Ma una volta Sandro Si è sposto E adesso che è brutto Va bene Si sai che mi piace tutto Vabbè si Però ok Agix Ma io non carci Ok Poteva essere Poteva essere Dal petrillo Vabbè Che è tutto il successo Devo girare carte Che cosa sta confondendo Oh non mi distraete E' ruido E' tutta cassa E' cassa Ho fatto la cosa Scusa Devi andare via Ti blocchiamo Ma aspetta La domanda è Ma è grassa O grassa grazia Perché se è grassa Ma l'hai messa Penultima O è penultima Non lo so Ormai non lo posso più fare Allora però Sta attento con gli allenatori Però Sono 3 Cubone Non è sempre così Io mi so Sempre Clifford Questo è un frilasso Saitac Energia Farfetch Fabiano Mamma mia Che angoscia Tenacia di Brock E questa E lei E lei È blu È blu Guarda Potrebbe essere Oddio Mi fai vedere il colore sopra In alto a destra In alto a destra No è quella No è cosa L'hanno già trovata È lugario Mannaggia Bella Bella Non bellissima Presto E' un altro Ma che succede male Solito Analisi debilla Vabbè Dite pananasi a quelli che fanno Sti cose Vabbè Sempre la stessa Trovo Vabbè Vabbò Che hai il video di Lugario? Io ce l'ho Non ce l'ho E Che schifo Lugario Ma è bello Madonna Marco Non si espone mai Non si espone mai Io Mi spongo 1,2,3,4 Fai l'essi Charizard No Esattamente Non c'è una faccina Niente Non c'è un po' di niente Però non faccio Una tristezza Ok Hickens Topping Q-Bomb Geodude Slowpoke Energia Trappola di Coca Strategia Little Search Energia Acciaio E ultimo tentativo Di Blaine T'avevo detto che non ero sicuro Perché c'era un Voglio aprire il trio Adria Adria Che stagetta Ma mia comunque una fatica Possibile Questa espansione Comunque io penso che dopo questa espansione Mazzate che ti siano ritornati Quell'art che c'è niente Niente Io ho già sottrisse Guardi Allora Perché sta finito di Cinzio Da quando dice Rubidonzio Di sto calmo Perché mi sta affasuta Dai io ne ho sudato già Che non ha messo dirò non ho messo al centro e quindi non so se potrebbe essere centrale potrebbe essere centrale ma pensa quanto è brutto apri quelli in inglese di questi che te spoilerano se c'è stava cosa però magari non è così e poi l'altra volta trappola di cora allora c'erano altri di almeno 4 1 2 3 4 1 2 3 e 4 1 2 3 4 allora questo è il figlio di giovanni allora allora non guarda mette l'ultimo volto sicuro di giovanni non eravamo già trovato non è una crescita c'è una crescita bella o questo bello ma che vabbè vabbè ma buttamole via io ho fatto una mucchierezza strano ne stanno solo 75 diverse non è mutato i tre uguali ma secondo me stavano dicendo così le dividiamo senza litiga capito non capito ci fanno su piacere trova un'altra energia così la squadra di questa me la faccio da lontano mi caserebbe male slow poke strategia di little surge detto al centro pokemon paras quindi un bello sapdos che sono pure avevamo già trovato questo non lo c'è stato lo lamentiamo quando trovi lugari un lugare quando trovi il petrum un petrum o quell'altro banetto banetto mucca 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 di più che tu non c'hai più non si sa perché ne ho trovati 35 credibile ma anche c'è successo 234 questo è liscia è strano guarda perché questo è un'altra cosa allora slow poke magic art pikachu che è successo koffing energia palestra di glumbeopoli strategia little surge determinazione misti slow poke vado no no comincerò un po sopra un po sopra non è tacchino è liscia è strano guarda perché vedi perché la chiamava strano trova quella che già avevamo succede mai ma l'intento c'è charizard e noi questo ci riprendere con l'uomo basta che c'è il risanone adesso lo ho avuto a farlo poi in realtà tutto quanto sto ricontrato vai ma quelle no perché ci stanno più sciagli importanti dove non sa quello non è sì ma no vado dai 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 ci stai uno due tre e quattro no da dove non c'è niente hackans caterpie paras charmander cliffery energia chenzy trappole cose siete pronti siete pronti bambam 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 facciamo un piccolo regalo voglio dire male male non è le due cx più brutte della storia ma non hai trovato no forse hai tutte le spazzioni del mondo sì forse questa è proprio brutta poi abbiamo trovato il bucario che Marco ha detto che fa schifo abbiamo trovato doppia energia che niente male abbiamo l'acciaio cosa porta meno a buio e poi pure bell doom e dunque ragazzotti anche per questo vi è davvero tutto noi speriamo che vi sia piaciuto in questo tre trittico bellissimo di elite trainer box noi come a solitiamo iscriviti al canale premete sulla campanellina per restare sempre aggiungendo la cucina e se questo video vi è piaciuto ragazzi lasciate un grosso qui da Visio Manu e Marco è davvero tutto noi vi mandiamo un grosso saluto ciao ragazzi